Signori bentornati in un nuovo episodio di Coop le minchia Siamo su The Addison Nell'episodio precedente abbiamo affrontato il bastardo che è lo zombie quello lì gigante che insomma sparava acido Che io ho convinto di dover affrontare il ragno meccanico invece non era quello fortunatamente E adesso stiamo per andare a rintracciare la chiamata di Sam che ci ha detto che c'è stata una soffiata di armi E dobbiamo vedere se finalmente possiamo procurarsi la nostra arma da fuoco Ma non saremo da soli a fare questo ma saremo con il buon uomo Molesto d'Augusto Molesto Salve Punza Tra l'altro sono ubriaco Adesso li hai sbloccati pure tu li suriken elettrici Eh si adesso li ho sbloccati Mamma mia tanta roba Allora gli aspetto aspettiamo Molesto che arriva Devono secondo me fixare un po' il movimento dei giocatori che hai in squadra Eccoti qua Jacob Ma che arma che hai un pezzo di culo Non ce l'hai tu? No Rintraccia la chiave di Phil Sì io comincio sempre con le armi più scarse comunque a fare Allora qua ho ucciso due Due stronzi Ah qua c'è una valvola Ah possiamo attivare penso Ah no qui Ecco ecco che sto buttando qua l'acqua Ho una tannica Non ho paura di usarla Ah guarda qua possiamo No possiamo fare un cazzo Pensavo di poter Ah qua ci vuole il quadro Qua si può entrare? No La sala filtra è lì che Phil è stazionato Ah qua c'è il coso Butta l'acqua bravo Io butto poi la Ah caca Oddio scusa bro Sono Eh niente Eh minchia non pensavo che ti colpivo Ma se non c'è il pupo amico Allora ti posso colpire? No non posso La batteria si Guarda lì come abbiamo fatto una strage Oddio ma cos'è? Ma basta Con sta casco Ma non sono io Eh no niente Chi è da solo fa Ma c'è una cassettina cassettella Oh è tutto elettrico bro Leva la batteria lì Bravo Aia sto morendo Ah questo dobbiamo metterlo qua Devi metterlo qui quello lì il quadro eh Ah la katana comunque è troppo a P Ok Attenzione qua non ci sono già mai stato Phil vivo o morto Batti un colpo Attenzione Sonic Ce la facciamo Mamma mia Aia 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 Ho detto che eri sulla corrente Madonna bro Non sono mai morto così tanto Sono con te Tu attiri la morte Eh dobbiamo spegnere le fiamme Ma c'è il coso Ah c'è Allora qua serve sempre un altro quadro bro eh No ho sbagliato Aspetta aspetta che prendo la Botanica Bravo bravo Tu bohomba Lotta la te Ce l'hai tu il tubo bomba vero? Bro C'è qualcosa di grosso qui No Inizio Perfetto Forse si è tolto Che ho distrutto il coso Perfetto Ok riequilibriamo la 50 e 60 sono 70 quindi faccio questo Perfetto Ok abbiamo riequilibrato la Prendo la batteria e ho pt Prova a girare quella Ah qua 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 Perfetto Ma dai che due coglioni Purtroppo il tasto per curarmi E H che è scomodissimo Ma se io faccio F per accettare la morte no Ah in attesa di rigenerazione Ah ok rinasco sti cazzi Minchia dove sono comparso Dovrei avere pure il combattimento in scivolata Che dovrebbe essere un po' più forte Ah cagare Guarda qua c'è un'arma incredibile L'hai raccolta star ma oddio Cos'è catarra Guarda bro Era qui a terra Magari l'hai raccolta e non te ne sei accorto bro Pidone Ehm Non possiamo fare nient'altro qui Oh aspetta qua c'è nelle tubature Una nota Collezionabile Meglio che le prendi ste note Perché secondo me Queste note ti possono sbloccare Anche delle missioni Secondari Insomma Ok accedi alla sala di controllo Del cancello Per aprire il cancello principale Quindi di qui Possiamo riaccedere Quindi abbiamo tolato le chiavi Allora qua c'è un interruttore Aspetta prima di premere l'interruttore Guarda qua pezzo di super martello Che c'è Lo vedi questo? Buona e buona Un progetto Vantaggio Rafforzamento Sicuramente aumenterà la durata delle armi Vediamo Mi potenzio Sta roba che ho preso Allora Li aggiungo Il Maria forse Quasi quasi incendiaria Me lo faccio Poi li mettiamo Il potenziamento Vediamo qual è questo Qui che ho preso Io Rafforzamento I colpi critici E gli attacchi pesanti Infliggono danni maggiori No Metto sempre questo qui Che ho trovato io Che mi piace Eeeh Qua c'è un interruttore Sì 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 Che io Riciclo un paio di armi Tipo il macete È abbastanza scarso Ormai Questa la riparo La katana Eeeh Poi c'è il super martello Questo 193 di danno Eh vabbè allora questo qui lo vendo Allora interruttore Vediamo cosa cazzo Ah abbiamo aperto il calcello Possiamo andare Ok c'è Sam qua Ci siamo quasi Incontra Sam Finalmente Dai che ci prendiamo la prima pistolozza Ci sono in ammorti Bro vediamo come funziona Questo martello Dobbiamo scendere Ho trovato un chiuso Io uso questo qui invece Un martello a testo Tu uso quello grande Io uso quello piccolo Mamma mia Ma è off In due gol Calcio rotante Del giaguaro Oh eccolo Sam Qui bro Ti aspetta Ok rompi E ruba le armi E spaccoli Via super martello Via lui Oddio Ci penso io Trovate le pistole Ma subito Oddio Guardali Guardali One shot Ma spacca il vetro Oddio Ma quanto c'è le mani Sto zombie Strano È tipo una variante Sì Sì È una variante Urla e attira Gli altri zombie Sicuramente Un classico Mamma mia Guarda No Se lo stanno mangiando Oddio Se lo sono fatto Si vede che era bestia Inchia L'hanno presa A cagare C'è una strage Shuriken Sto per strillare A cagare Mamma mia Strage Vedete che qua c'è Della roba da prendere Prima di entrare in casa Oh Finalmente una seconda Per questa cosa Colpisci mentre sono a terra Abatti uno zombie Per ottenere un moderato Sì Sì Aumento dei danni Oh Sam Buongiorno Ah lui è immune Prende una pistola Oddio Dammela subito Che cazzo sono Ah ma è questa l'arma Oddio No Abbiamo cazzo di fuci Ti copro dal vialetto Della porta di Ingrid Questi sono i colpi No Fammi vedere Qua non si può aprire Dobbiamo uscire da qui No bro Un cazzo No 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 bro Certo voglio un po' risparmiarli I colpi Minchia Un cazzo È un fucire d'assalto Tipo un semi cecchino Un tattico Però è OP Ma dobbiamo Ah sali al piano di sopra Ok dobbiamo andare al piano di sopra Oh munizioni per fuggire A posto Ci sono munizioni lungo la scala Attico cremisi Una nota Questa è chiusa Qua possiamo andare Qua cosa c'è Aspetta prima di andare Aereo sol Altri materiali Minchia super casone Che hanno questi Oh Lutta Lutta tutto Guarda quale materiale Che c'è qua Per una bevanda B bed Incredibile Cassa di munizioni Sblocca Ah insieme Dobbiamo essere Oddio Ci fugliamo ogni volta Sì Sì è infinita Spara bro Spara quanto puoi Vediamo com'è l'arma Oddio One shot Oddio Che bello Che goduria Nooo Sono pile armi da fuoco Io ricarico così Almeno è sicuro Che non le sfreggo Ricarico sempre Vale che vada Ti fa un filmato E ti fa andare da qua Capito Questa esplode Ma è proprio Fighissimo sparare Oh questo è un duro Porca puttana Ok I feel bad about that Ah minchia ho sbagliato il no scope a casa e l'ho preso bro Dov'è entrato Dov'è entrato Ah Sì l'ho fatto Bravo Io trovo questo qui fuori C'è un bavoso bro Quello che sparate L'abbiamo ucciso Ai 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 Vomita Io ho convinto che ci davano Sai inizialmente una pistola Vediamo Progetto Ricarica rapida Bam Sarà per le armi da fuoco Allo Sam Buon uomo Mi dica Guarda le armi che a lui Dammele un paio Guarda le armi che a lui Guarda le armi che a lui C'è un doc in Santa Monica E ho parlato a lui E ho parlato di mia immunità E' così Siamo insieme E tutti Un'altra cosa che ho appena La voce sulla radio Promete di rinforzare Di rinforzare Tutti la tua La piazza Non succede Noi stiamo Siamo facendo Noi stiamo Siamo ancora Siamo così stupendo Quando Emma Siamo per i miei plan Non è Non è Vuoi una betta Livello 12 In nuova scheda Ammazza zombie Sbloccata Ok 6 Modifica Iniettante a distanza Abbiamo provato Modifica Ma una roba Le armi Queste qui Si spaccano Ok Non hanno la durata Le armi da fuoco Quindi sono infinite Trovare un'arma da fuoco Buona Allora bro Stai fermo così Un attimo Bravissima Perfetto Qua cammina Con l'assa di fuoco Per incendiare subito Qua l'indicatore A noi Ah io ne ho uno anche di qua Giusto Ok Pro dietro Emma Tra l'altro mi voglio trombare Se la trombo È un bel gioco Cazzo ci sta facendo prendere il culo No ma l'hanno morso L'hanno molto trattato Non toccare Go check on Andreas See if she's ok This ain't no game Emma You know what's gonna happen to him The same thing that happens to all of them Now let me This is my house It is my rules Sam Vai a cagare De casa mia Grazie Michael what happened You're not fine I'll get you help Ok Yeah you go radio for help Don't even think about it I took you in You owe me this Tale agora si fa mor Si è messo a pegora You don't know that Hey The 2019 Best supporting Actress Romero Goes to Oh Oh my lucky charm This is why you left The Met Of course I think I've got the special blood I'm zombie proof I just feel it Yes Yes you have the special blood You're going to get through this What the hell What the hell do you want to get out of here Michael 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 please wake up No I got Emma you gotta go outside now I'm sorry Fuck you Why do you get to be the special one Hey Buttonella di Hey He's my dad He's my dad He's my dad He's my dad I can still get you out of this But we need everybody It's what Michael would want Get out of my house ma la pistola a cagare solo la pistola mi interessa e lo 13 bam e niente per questo episodio io io è molesto ci salutiamo qui e noi ci vediamo nel prossimo episodio con si vabbè gioco di zombie 2 ciao bella mia ciao